non si può che va fuori il compleanno ed è il compleanno del nostro cosiddetto piacinano che Luca cammina e quindi lo vogliono in mezzo a noi vieni qua Luca, vieni senza pazzati allora lui non voleva non voleva perché è tigno voi lo volete nudo perché ci credo, ma non è curioso sono nudo anche maschietto è curioso e invidioso abbiamo selezionato che so che in genere arrivi totalmente togli la scatola e vai a casa siccome ti conosco raccomandiamo alle donne che scatenarsi con calma perché lui non è uno che si scatena ma è uno che ci mette corassone maestro da Londra, gli auguri un applauso, grazie Luca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.